Hare Krishna, continuiamo lo studio della Bhagavad Gita così com'è prodotta da Srila Prabhupada. Oggi leggiamo dal secondo capitolo il verso e il numero 3. Allora, abbiamo scritto il verso numero 2 della lavagna, però se avete la Bhagavad Gita, potete passarvelo, se riuscite a ripetere insieme a me, anche il sanspite. Naitattvayupapadyate. 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 Naitattvayupada. 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 Naitattvayupapadyate. Naitattvayupapadyate. Naitattvayup关 Menu. Grazie. 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 Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia by Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupāda Kī Jai. O figlio di Prita, non cedere a questa umiliante impotenza, non ti seddici, abbandona questa meschina debolezza di cuore, o vincitore del nemico, e alzati. Ripetiamo insieme, per favore. O figlio di Prita, non cedere a questa umiliante impotenza, non ti si addice, abbandona questa meschina debolezza di cuore, o vincitore del nemico, e alzati. Spiegazione. Chiamandolo figlio di Prita, Krishna vuole sottolineare il legame di parentela che lo unisce ad Arjuna, perché Prita e la sorella di suo padre Vasudeva. Il figlio di un Brahmana non è un Brahmana se non è virtuoso, così il figlio di un Kśatrya non deve mai rifiutarsi di combattere se vuole essere riconosciuto come Kśatrya. Se il primo è un Empio e il secondo un Codardo, entrambi saranno indegni del loro padre. Krishna non vuole che il suo caro amico Arjuna sia considerato indegno del padre Kśatrya, perciò, salito sul suo carro, è pronto a dargli i suoi consigli. Ma se Arjuna non saprà trarre vantaggio dei consigli del Signore e abbandonerà la lotta, si maccherà di un atto infame. Krishna aggiunge quindi che questo comportamento di Arjuna non è affatto degno di lui. Per sottrarsi al combattimento, Arjuna può scusarsi, adducendo la sua venerazione per il rispettabile Bhishnu e per i suoi parenti. Ma Krishna considera questa magnanimità una mera forma di debolezza. Questa falsa magnanimità non è affatto conforme alle scritture, da presunta non violenza di Arjuna e quindi del tutto fuori posto, e seguendo le direttive di Krishna, egli dovrebbe rinunciarli. O figlio di Prita, non cedere a questa umiliante impotenza, non ti si addice, abbandona questa meschina debolezza di cuore, o vincitore del nemico, e alzati. Ommagyanati mirandhasya gyananjana shalakaya chakshurun miritam yena tasmai shri gura venamah. Shri Chaitanya manobishtam sthapitam yena bhootale, svayam rupakadamahyam dadatisvapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Taghunatambitam. Tamsajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam. Shri Radha Krishnapadam Shri Radha Krishnapadam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamtsha. He Krishna Karunasindho Dheena Bandho Jagatpate, Gupeśya Gupeika Kanta Radha Kanta Namostute. Taptakancana Gaurangi, Radhevrindavaneshwari, Rishabhanu Sute Devi, Pranamami Haripriye, Vanchakalpatarubhyascha, Kripasindhu Gaevacha, Patitanam Pavanebhyu, Vaishnavebhyu, Namonamaha, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shrivasa Ligoura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, un saluto a tutti, chi ci segue da casa e chi è qui presente, vi chiedo di portare pazienza per quanto riguarda l'esposizione del contenuto e anche perché è la prima volta che faccio una lezione alla festa della domenica, quindi devo chiedere benedizioni a tutti i devoti presenti e grazie alle benedizioni si può andare molto avanti nella vita spirituale, altrimenti è molto difficile Hare Krishna, allora, qui Krishna inizia con il primo, questo è il primo tentativo che incoraggia Arjuna a combattere questa battaglia vediamo che già il verso precedente Krishna ha detto mio caro Arjuna, da dove viene questa mancanza di purezza? Non è affatta degna di un uomo che conosce il valore della vita non ti porterà ai pianeti superiori ma all'infamia e qua ancora Krishna dice non cedere a questa umiliante impotenza, non ti si addice abbandona questa meschina debolezza di cuore o vincitore del nemico e alzati quindi Krishna incoraggia Arjuna ad alzarsi e a combattere e ci sono dei punti importanti per cui Arjuna dovrebbe combattere questa battaglia sappiamo che Arjuna è uno Kshatria ed è molto famoso, è uno Kshatria, è un combattente molto valoroso e uno Kshatria per dovere non dovrebbe mai rifiutare una sfida al combattimento quindi se qualcuno sfida uno Kshatria, un altro Kshatria sfida uno Kshatria al combattimento non dovrebbe mai rifiutare la sfida anche perché se chi accetta la sfida dà la sua parola di accettarla dà la sua parola e quindi la parola per uno Kshatria è tutto e l'onore, la parola d'onore è molto molto importante, è fondamentale e un Kshatria è pronto a lasciare il suo corpo, a suicidarsi se non è in grado di ottemperare la sua parola data e un altro motivo per cui Arjuna dovrebbe combattere è perché lo Kshatria ha il dovere di combattere per proteggere i valori morali ed etici della società quindi se c'è una giusta causa che preservi quindi i principi del dharma, della religione la battaglia è corretta, è giusta e quindi Arjuna in questo caso, dato che la situazione era questa, vediamo e che la necessità era ormai impellente quella di combattere contro i Kuru avrebbe dovuto accettare senza remore questa battaglia che ormai era alle porte e quindi l'importanza di proteggere un dharma per lo Kshatria è fondamentale, Kshatria vuol dire colui che è libera dalla minaccia e quindi aiutare la società e il popolo a essere felici, protetti e armoniosi quindi in una società che non abbia problemi e questo è proprio il dovere di uno Kshatria e quindi la situazione era questa e Arjuna nonostante questo stava rifiutando di combattere un altro punto ancora è che lo Kshatria deve regnare il dovere, uno dei doveri degli Kshatria è quello di regnare su un pezzo di terra quindi regnare o almeno un villaggio, regnare una regione, regnare su qualcosa e la Bhagavad Gita spiega quali sono le caratteristiche dello Kshatria alla fine della Bhagavad Gita è detto i doveri insiti nella natura dell'Ukshatria e le caratteristiche di un Ukshatria sono Shoryam, Shoryam è il coraggio l'Ukshatria è molto coraggioso non ha paura di nessuno non ha paura di affrontare qualsiasi avversario e Teja, Teja è la potenza quindi l'Ukshatria è molto potente e a quei tempi nell'era Vedica gli Ukshatria noi le persone le vediamo al massimo alte due metri ma gli Ukshatria erano enormi erano altissimi tre, quattro metri di altezza erano molto possenti e dritti molto determinati quindi quando decidevano di fare qualcosa gli Ukshatria non mancavano mai alla loro promessa Bhishma per esempio ha fatto il voto fin da giovane di rimanere celibe per tutta la vita e così è stato e ci sono tanti altri esempi quindi la determinazione in un combattente è necessaria ed è molto esperto quindi l'Ukshatria è molto esperto nel combattimento nell'utilizzare le armi molto esperto nella diplomazia nel saper contrattare quegli avversari quindi è una caratteristica dell'Ukshatria l'esperienza la capacità di operare su diversi fronti è importante l'Ukshatria l'Ukshatria non si tira mai indietro quando c'è un combattimento non si tira mai indietro è molto determinato e non avendo paura di niente non ha il benché minimo dubbio sul combattere se c'è in corso un combattimento non potrebbe mai passare per la testa di un Ukshatria di scappare andarsene via di rifugiarsi in un posto nascosto per eludere la battaglia perché l'Ukshatria ha questa caratteristica fondamentale e Dhanam è molto generoso l'Ukshatria i governanti i regnanti a quei tempi soprattutto erano molto generosi davano in carità così tante ricchezze soprattutto quando si dovevano svolgere dei sacrifici soprattutto ai Brahmana ai sacerdoti davano oro e ricchezze varie anche in natura come cereali burocrificato e mucche latte così tante opulenze ed era quindi non era avido l'Ukshatria anzi non vedeva allora di fare la carità di dare la carità a un Brahmana e quindi traeva molto piacere da dare la carità perché era il suo dovere e Ishvara Bhava vediamo che l'Ukshatria aveva e dà la natura del controllo Ishvara di controllare quindi di regnare e quindi Kshatram Karma Karma vuol dire caratteristiche in questo caso anche dovere Svabhava Jham Svabhava è la sua natura propria è proprio la natura insita nell'Ukshatria è nato così e quindi ha queste caratteristiche questa mentalità agisce in questo modo e quindi questi dovrebbero essere i motivi per cui Arjuna dovrebbe combattere e quindi Krishna incoraggia Arjuna al combattimento e vediamo che la lotta la battaglia può sembrare a a livello materiale qualcosa di negativo di sbagliato lottare o combattere quindi andare contro qualcuno ma in realtà vediamo che è del tutto naturale i bambini quando giocano tra di loro per lo più giocano alla lotta traggono molto piacere a lottare tra di loro e per esempio i cuccioli di animali gli animali tutti gli animali gli animali non hanno il razzucinio come gli umani ma istintivamente hanno questa tendenza a giocare lottando tra di loro vediamo dei cani vediamo delle tigri qualsiasi tipo di animale quando sono piccoli come si sono molto simpatici si vedono che lottano tra di loro fanno le zampate uno va sopra l'altro si rotolano tra di loro e non è che hanno visto di film di guerra per fare queste lotte naturalmente lottano non hanno visto mai nessuno perché questo è un istinto del tutto naturale e perciò la lotta è naturale infatti tutto quello che esiste in questo mondo non è nient'altro che un riflesso di Dio e anche la lotta lo è infatti Krishna quando era bambino era solito combattere fare la lotta con con i pastorelli sappiamo che facevano i giochi per esempio Krishna saliva sulle spalle di un gopa e combatteva contro un'altra coppia cercavano di tirarsi giù o facevano vari tipi di lotte perché la lotta a livello spirituale a livello originale esiste e quindi esiste anche nel mondo materiale di conseguenza ma vediamo che la lotta o le battaglie che ci sono a livello materiale sono una forma distorta quindi sappiamo che tutto in questo mondo è una forma distorta della realtà assoluta e quindi anche l'attitudine nel combattimento che esiste nel mondo materiale è giusta ma viene e arriva qui in modo distorto per la maggior parte dei casi e quindi vediamo in questo caso che qui già i panda vanno cercato di arrivare attraverso la diplomazia quindi parlando con i guru arrivare a un buon compromesso a un punto d'accordo ma non sono riusciti e quindi anche per il fatto che non si sono seguiti i principi del dharma quindi la veridicità sappiamo che Duryodhana era molto diciamo crudele non aveva non seguiva realmente i principi del dharma e quindi per queste ragioni anche la battaglia era necessaria e questo è l'ultimo step quindi si è arrivato gradualmente a decidere di lottare in questo modo in questa famosissima battaglia di Kurukshetra ma vediamo che appunto la battaglia soprattutto nell'era vedica era una battaglia molto virtuosa perché adesso quando abbiamo visto negli ultimi decenni queste guerre dove sono morte così tante persone così tanti civili così tanti innocenti che non c'entravano niente nella battaglia hanno dovuto soccombere e morire invece sappiamo che nella battaglia di Kurukshetra sono andati in questo campo Dharmakshetra e Kurukshetra questo campo che si trova nel nord dell'India completamente isolato e nessun civile è stato coinvolto in questa battaglia perché questa doveva essere la regola in una battaglia tra Kshatria dove solo gli Kshatria dovevano soccombere in battaglia e nessun civile innocente doveva assolutamente morire e poi gli Kshatria erano molto valorosi e chi periva in battaglia raggiungeva i pianeti celesti abbiamo letto anche precedentemente quindi un Kshatria era felice di combattere felice di combattere per il Dharma perché sapeva che tanto anche se lasciava il corpo in battaglia era sicuro di raggiungere i pianeti celesti invece oggi vediamo che non è affatto così non è possibile questo e non succede mai quindi è assolutamente sconsigliato infatti le guerre sono fatte da persone veramente ignoranti persone che non hanno consapevolezza della loro natura spirituale non sanno nemmeno che cos'è il Dharma cos'è il vero Dharma e quindi vediamo che ci sono così tante problematiche e questi uomini al giorno d'oggi non riescono a controllare i sensi non sanno nemmeno cosa sia il controllo dei sensi e come controllare i sensi nessuno segue i principi regolatori si uccidono così tanti animali così tante bestie innocenti e e ci si aspetta che non ci siano guerre invece è praticamente scontato che il karma collettivo si ripercuota su questo pianeta così pregno di violenza e cattiveria e i politici e gli kshatri al giorno d'oggi tra virgolette non sono che uno strumento di questo karma nefasto che c'è al giorno d'oggi e un altro punto fondamentale è perché Krishna incoraggia così tanto e sprona così tanto Arjuna a combattere e gli dice non cedere a questo umiliante impotenza non ti si addice cioè abbandona questa meschina debolezza di cuore e alzati combatti dice cioè Krishna mette così tanta enfasi su questa battaglia ma Krishna è solamente in quel caso l'auriga che che motivo ha di insistere così tanto Krishna insiste perché è il suo desiderio semplicemente Krishna desidera questo e quindi Krishna vuole che Arjuna combatta che segua il suo dovere e quando Krishna vuole qualcosa Krishna fa in modo che si verifichi quindi il desiderio di Krishna è assoluto Krishna ha chiamato anche Aciuta l'infallibile e quindi voleva che Arjuna combattesse nonostante questa ridaya d'orbalian questa debolezza di cuore chi poteva convincere Arjuna in questa situazione a combattere a cambiare idea a affrontare tutti gli amici i familiari i parenti i benefattori i figli come era possibile riuscire a convincere Arjuna in una tale impresa ma Krishna voleva questo voleva stabilire di nuovo i principi del Dharma e quindi quando Krishna vuole qualcosa Krishna lo ottiene e vediamo che Arjuna prenderà in seguito le armi e combatterà e abbiamo detto che il desiderio di Krishna è assoluto ma anche le anime tutti noi abbiamo tantissimi desideri ma l'unico problema è che il nostro desiderio non è assoluto perché quando noi vogliamo qualcosa difficilmente riusciamo a ottenerlo soprattutto più è onerosa l'impresa più difficile ottenerla quindi noi a livello materiale quando abbiamo desideri lottiamo lottiamo così tanto per soddisfarli la Bhagavad Gita dice nel sedicesimo capitolo Asha Pasha Shatai Badda che le persone hanno Shatai centinaia di Asha desideri e questi desideri sono Asha Pasha questi desideri Pasha creano un incatenamento e quindi anche se una persona desidera qualcosa è legata a questo desiderio Badda è condizionata dal desiderio che prova e quindi il suo desiderio non può essere assoluto cioè quello che desidera non può ottenerlo come vuole lui e quindi tante volte vediamo che una persona fa grandi sforzi perché vuole ottenere qualcosa e non riesce a ottenere ci mette anima corpo per riuscire a soddisfare quel desiderio anche per tutta la vita e non riesce in nessun modo ad ottenerlo e a volte vediamo persone che fanno praticamente zero sforzo e ottengono quello che volevano e uno si può chiedere ma come è possibile che succeda questo cioè se una persona si sforza così tanto e non ottiene niente allora che che senso ha e vediamo che è una lotta continua di ogni persona su questo pianeta di soddisfare di riuscire a ottenere i risultati dei propri desideri è proprio una lotta ma in pochi riescono a uscirne vincitori e quindi come abbiamo detto chi cerca di sforzarsi per ottenere i desideri e non li ottiene e chi non si sforza li ottiene perché succede questo semplicemente esiste una legge superiore alla nostra volontà questa è la legge del karma e il karma agisce in questo modo il karma fa sì che ci arrivi quello che c'è già stato predestinato dalle nostre azioni precedenti in questa vita e delle azioni precedenti in altre vite e quindi a volte vedi che persone che cercano di fare di tutto per ottenere qualcosa e non ce la fanno perché il loro karma non glielo consente e lo Srimad Bhagavatam dice anche dice che le persone cercano di ottenere dei piaceri ma a volte ottengono piaceri e a volte ottengono sofferenze in questo mondo c'è questa dualità piaceri e sofferenze piaceri e sofferenze continue e kalena sarvatra gabira ramasa ma queste piaceri e queste sofferenze arrivano kalena con il corso del tempo arrivano automaticamente senza che una persona in realtà si sforzi quindi una persona gli arriva quel piacere ma non si è sforzata per ottenerla e a volte gli arriva una sofferenza e quella persona non ha voluto quella sofferenza e gli è arrivata quindi automaticamente arrivano piaceri e sofferenze senza che questa persona li desideri veramente e quindi tutti gli sforzi che realmente fa una persona a livello materiale con una concezione materiale egoistica di ottenere qualcosa sono praticamente inutili shama shrama eva hi kevalam quindi non hanno sussistenza perché tanto quello che gli deve arrivare arriva ma le persone non lo sanno ma qual è il vantaggio di un devoto che un devoto riesce a vedere tutto in relazione a Dio tutto quello che gli arriva sia di positivo che di negativo sa che arriva dal Signore che arriva quello che gli merita e vede tutto in relazione a Dio quindi se gli succede qualcosa di positivo è felice e sa che questa è misericordia del Signore e se vede che gli arriva qualcosa di negativo è desiderio del Signore anche quello e quindi è comunque sempre soddisfatto di quello che gli arriva e quindi il devoto accetta quello che ha ottenuto e così automaticamente ottiene la pace questo è realmente l'unico modo di ottenere tranquillità e pace invece una persona che si sforza così tanto di ottenere qualcosa e avida si arrabbia non troverà mai la pace alla fine del secondo capitolo Krishna dice la persona che ha abbandonato ogni desiderio materiale qualsiasi desiderio materiale l'ha abbandonato e non desidera ottenere più niente non ha più nessuna ambizione non vuole più nulla di materiale per sé non pensa più di essere l'autore dell'azione non pensa e non si identifica più col corpo allora lui questa persona lascianti la pace adigacciati riesce a ottenere quindi solo in questo modo abbandonando ogni desiderio materiale ogni rincorsa a questi piaceri effimeri riesce a ottenere realmente la pace quindi non avere nessun desiderio materiale non vuol dire poi non avere nessun desiderio in assoluto perché il devoto desidera qualcosa il devoto desidera semplicemente Krishna desidera servire Krishna i desideri sono innati nell'anima ma il desiderio per ottenere qualcosa in questo mondo materiale e materiale e il desiderio di soddisfare Krishna è completamente spirituale non deve essere considerato un desiderio a livello materiale e perciò Arjuna rifiutava di combattere e questo rifiuto di combattere sebbene possa sembrare valoroso possa sembrare virtuoso in realtà è un desiderio materiale perché pensa solo in termini di io e la mia famiglia la mia dinastia come ha detto Arjuna si distruggerebbe la dinastia della famiglia e quindi si incorrerebbe nel peccato però questa è una concezione materiale invece accettare di combattere come Krishna dice qui ad Arjuna alzati combatti questo se viene assimilato dalla mente dal cuore di questa persona in questo caso di Arjuna diventa un desiderio spirituale non è più un desiderio materiale di combattere per Krishna con lottare anche col rischio di lasciare il corpo ma per Krishna è completamente spirituale e questo arreca grande gioia all'anima questo è l'unico modo per trovare la pace e la gioia nell'anima e quindi la mentalità materialista cosa dice io riesco a fare tutto da solo quindi io posso fare con le mie forze ogni cosa e una persona in questo stato di mente otterrà magari a volte delle gioie ma per lo più otterrà dei dolori e e quindi non potrà fare altro che navigare su queste onde su queste dualità della gioia del dolore completamente perché pensa di potercela fare da solo che agisce solo con le proprie capacità invece una mentalità leggermente superiore pensa che c'è qualcosa a cui qualcuno o qualcosa di più in alto a cui chiedere e quindi quando ottiene qualcosa pensa grazie alle mie preghiere ho ottenuto qualcosa e quindi è grato di una forza superiore di ciò che ha ottenuto e quando ottiene delle sofferenze pensa beh perché mi è arrivato questo forse non ho pregato nel modo giusto forse non esiste veramente qualcosa ha un po' dei dubbi non sa veramente se c'è qualcosa e questa è una mentalità già superiore a quella del gretto materialista che pensa e concepisce qualcosa di superiore un'energia superiore alla semplice materia a quello che vede e basta e poi c'è la mentalità divina la mentalità trascendentale che è la mentalità del devoto che sa che tutto quello che arriva è a causa della volontà del Signore nulla sfugge alla volontà del Signore e Shrila Baklino Takur era completamente arreso in una canzone Manasaddeho Gheha spiega e dice Marobi Rakobi io iccia tomar nitya das prati tuva adikar dice Marobi se vuoi uccidermi Rakobi se vuoi proteggermi dice rivolto a Krishna io iccia tomar questo è il tuo desiderio iccia questo è il tuo desiderio e nitya das prati tuva adikar io perché pensa così perché sa di essere un nitya das sa di essere un eterno servitore di Krishna e quindi completamente ha reso alla volontà del signore mi puoi uccidere mi puoi proteggere puoi fare di me ciò che vuoi ma io so di essere un tuo eterno servitore e quindi sono felice in ogni caso ma sappiamo che Krishna è comunque molto gentile misericordioso e non dà mai una sofferenza o una prova più alta di o più difficile di quello che il devoto è in grado di superare o di sopportare quindi il sentimento del devoto deve essere quello di arrendersi al signore ma il signore è comunque molto misericordioso sappiamo anche la regina Kunti chiedeva a Krishna di dare sempre più sofferenze per ricordarsi di Krishna perché attraverso le difficoltà è più facile ricordarsi di Dio quindi un devoto non si strazia non si cervella per raggiungere un qualche tipo di felicità di ottenere qualcosa di materiale non cerca in tutti i modi senza considerare la volontà del signore di ottenere qualcosa per trovare un po' di felicità il devoto quello che fa lo fa solo è semplicemente per Krishna il devoto agisce solo attraverso il servizio di devozione e nient'altro e Shri La Rupa Goswami spiega nel Bhakti Rasamrita Sindhu Attehara Prayasascha dice che quali sono le cose che un devoto non dovrebbe mai fare per far scemare il livello di coscienza che sono deleterie al servizio di devozione è Attehara quindi ottenere più di quello che uno dovrebbe avere quindi Atteh vuol dire troppo Ahara volere troppo di più di quello che uno dovrebbe ricevere quindi accumulare anche vuol dire accumulare troppo un devoto non dovrebbe mai accumulare dovrebbe vivere con quello che che ha con quello che serve per mantenere il corpo e l'anima insieme per soddisfare Dio e Prayasas quindi sforzarsi troppo per cose difficili da ottenere se una cosa è troppo difficile da ottenere e un devoto si sforza tanto per riuscire a ottenere queste cose è nella direzione sbagliata perché in questo modo il servizio di devozione e la sua coscienza si indebolirà e quindi un devoto deve praticamente diciamo accontentarsi o meglio accettare ciò che Dio dà a lui ciò che in poche parole si merita e a volte vediamo che ci succede che cerchiamo di risolvere qualche problema quanti quanti problemi ci sono nella vita anche devozionale anche un devoto a così tanti problemi ci sono tanti problemi ma a volte cerchiamo e ci impelaghiamo in un problema e la mente si focalizza lì e e vediamo come cosa succede che si impesantisce la coscienza si indebolisce molto e non ci ricordiamo realmente di Krishna in quella occasione ci ricordiamo solo della mente rimaniamo coinvolti nei pensieri nella mente e cerchiamo di risolvere quella cosa perché il problema è così grande che ci affossa quindi ci appesantisce la mente e questo è un problema che può succedere ma anche in questo caso bisognerebbe ricordarsi di Krishna anche nelle peggiori difficoltà anche se sembra veramente difficile difficile il superare quel problema ma sappiamo che chi si affida a a Dio può superare qualsiasi cosa e e quindi per Krishna anche una cosa che può sembrare per noi impossibile da superare per Krishna è un gioco da ragazzi è una cosa semplicissima quindi se vuole la può fare in modo che il devoto la superi in modo molto facile anche se la nostra mente pensa che è impossibile questa è l'inconcepibile potenza di Dio e vediamo qua che Arjuna Ridaya Durbalyam debolezza di cuore Arjuna aveva questa debolezza di cuore sorta nella sua coscienza perché praticamente si era dimenticato di Krishna non pensava più la volontà il volere di Krishna e pensava con la sua mente pensava quali potevano essere i vantaggi e gli svantaggi di combattere ma non vedeva Krishna al suo fianco non considerava Krishna realmente al suo fianco come il Signore come Dio come il Consigliere Supremo e quindi automaticamente è caduto in questa debolezza meschina come la chiama qui Krishna e quindi questo Ridaya Durbayam è detto che ci sono quattro tipi di Anarta nei Veda e il primo tipo di Anarta è Svarupa Aprapti e Svarupa Aprapti vuol dire identificarsi con la natura sbagliata quindi identificarsi col corpo Svarupa Aprapti quindi non ricordarsi della propria identità originale non ricordarsi di essere parte e particelle di Dio e quindi praticamente ci si identifica con una Rupa con una forma che non è veramente la propria è una forma che non è sua una forma proprio illusoria che in realtà non ci appartiene e quindi come questa cimice pensa di essere una cimice un emittero si identifica con questo corpo ma in realtà non lo è e come io penso di essere un essere umano ma in realtà non lo sono ma chiusi in questo corpo pensiamo di essere quello che il nostro corpo ci suggerisce e questo è il primo Anarta Svarupa Prapti e il secondo è Asat Trishna vuol dire voler proprio ottenere Trishna una sete ardente di ottenimenti materiali di qualcosa che come abbiamo detto prima non si può realmente raggiungere perché non è nostro merito perché noi in realtà per karma non ce lo meritiamo quindi Asat vuol dire ciò che non è eterno materiale quindi una persona vuole una per esempio una moglie una famiglia vuole una casa vuole una macchina vuole dei soldi vuole una posizione nella società vuole cose che sono tutte Asat che durano giusto una vita e poi svaniscono e quindi questa sete ardente sono persone che tutta una vita lottano per ottenere delle posizioni nella società e poi qualsiasi cosa può succedere in qualsiasi momento la perdono e quindi in questo mondo è tutto Asat e il terzo Anarta ciò che una persona un devoto non dovrebbe sviluppare è Aparada le offese sappiamo le offese sono dieci e per offese si intende criticare i devoti commettere non adempire le istruzioni del messo spirituale ci sono diverse offese poi sono tantissime le offese che sono spiegate anche da Shrida Rupa Goswami e quindi la terza il terza Narta è commettere offese questo indebolisce la coscienza di un devoto e la quarta il quarta Narta è la debolezza di cuore quindi la la mancanza di desiderio di fare di compiere servizio devozionale Ridaia quando il cuore è Dor Baliam Baliam è la forza Dor vuol dire che è difficile questa forza che viene meno quindi manca la forza nel compiere servizio devozionale nel stare con i devoti e quindi nell'agire e quindi come qua dice Arjuna e lo dirà anche dopo preferisco andare a mendicare andare a meditare nella foresta piuttosto che stare qui e combattere quindi questa è debolezza di cuore perché un'okshatria non si sognerebbe mai di compiere un gesto simile e quindi quando il cuore è debole allora si indebolisce la coscienza e non si riesce più ad agire in coscienza di Krishna e se non si agisce più in coscienza di Krishna bisogna comunque agire e come si agisce si agisce sul piano materiale e quindi diventa la mente il padrone delle nostre azioni e quindi questi sono i quattro anarta che bisogna superare e quindi questo ridaya dor bayam praticamente non è altro che la depressione quindi quando una persona è depressa c'è questa statistica che ho sentito più volte che in Italia ci sono almeno 300.000 casi di depressione contati proprio certificati chissà quante persone sicuramente il doppio saranno comunque depresse depressione si vuole stare da soli si ha mancanza di forza nell'agire i desideri sono così i desideri sono giusto sono deboli non si hanno grandi aspirazioni si preferisce fare niente piuttosto che fare quindi la depressione rientra sicuramente nel guna dell'ignoranza e l'altro giorno sono andato in una farmacia gli ho proposto un libro ho detto stiamo distribuendo dei libri di yoga il farmacista ha detto no abbiamo già gli antidepressivi non ci servono i libri di yoga ecco questa è la natura oggigiorno del mondo che con gli antidepressivi si risolvono tutti i problemi ma cosa sono gli antidepressivi sono assolutamente sostanze chimiche artificiali che agiscono a a livello neuronale a livello diciamo della materia del corpo e quindi gli antidepressivi non sono consigliati dagli acciari e invece lo yoga yoga vuol dire connessione connessione con il supremo con Dio questo è assolutamente consigliato e anche la shtanga yoga l'ata yoga è molto consigliato è molto consigliata questa pratica anche per un principiante una persona può iniziare a fare ashtanga yoga quindi a praticare asana pranayama sarebbe bene che pratichi anche yama e niyama quindi che segua i principi prima di tutto quindi smettere di fumare di mangiare carne e via dicendo stare attento alle compagnie e quindi lo yoga vuol dire yoga connettersi col supremo con Dio e quindi lo yoga aiuta la mente a stabilizzarsi e perché quando la mente è nemica allora ne dice di tutte le salse e quindi è molto facile che la depressione arrivi la depressione non è nient'altro che una condizione della mente deriva semplicemente dalla mente non è che la depressione deriva da qualcosa che puoi vedere di tangibile è la mente che che proietta e dice questo non riuscirai mai a superarlo hai questo grave problema non vedrai non vedi una soluzione quindi la mente allora va nel più totale panico e non riesce più non ha più la forza ad agire e quindi la mente è molto importante controllare lo yoga serve a quello e il bhakti yoga è lo yoga supremo bhakti vuol dire controllare la mente attraverso il servizio di devozione quindi se una persona agisce un devoto agisce per Krishna automaticamente la sua mente è controllata non ha bisogno artificialmente di controllare la mente con qualche pratica meccanica ma automaticamente se tu pensi sempre al Signore a Dio e agisci per Lui tutto ciò che fai pensi a quello che fai pensi al servizio che stai facendo e la mente è impegnata è impegnata nel servizio di devozione quindi è automaticamente controllata Krishna dice nel dodicesimo capitolo dice dice impegna la tua mente in me e applica la tua intelligenza in me quindi tu hai un'intelligenza tu hai la mente e devi cercare con le tue peculiarità le tue caratteristiche di applicare quello che sai al servizio di devozione e in questo modo otterrai la dimora di Krishna otterrai la coscienza di Krishna perché se una persona se un devoto pensa come Krishna come vuole Krishna automaticamente entra nella sua dimensione nella sua coscienza è del tutto naturale e e quindi qua Srila Prabhupada dice alla fine della spiegazione questa falsa magnanimità non è affatto conforme alle scritture la presunta non violenza di Arjuna è quindi del tutto fuori posto e seguendo le direttive di Krishna egli dovrebbe rinunciarli e qua Arjuna mostra compassione mostra una cosiddetta magnanimità ma non è accettata da Krishna e anche Srila Prabhupada lo dice molto chiaramente e quindi Arjuna qua sembrerebbe non violento che proclami la non violenza quindi di non uccidere personalità importanti come maestri parenti di non combattere ma non è assolutamente contemplata qui la non violenza quindi non violenza non è la forma più elevata di spiritualità ci sono certe tradizioni che pensano che la non violenza sia l'apice della spiritualità come per esempio i jainisti che non contemplano alcuna violenza verso nessun'essa e quindi hanno questo motto che di che la più alta verità il più alto dharma è la non violenza quindi seguire la non violenza è parodharma ma qua invece c'è un'altra teoria che è quella di combattere perché lo dice Krishna e astenersi in questo caso per Arjuna astenersi dal combattimento significherebbe una totale sconfitta un dolore una sofferenza ne soffrirebbe molto tantissimo perché non è quello che Krishna vuole quindi questa cosiddetta non violenza non sarebbe di beneficio ad Arjuna e non gli darebbe veramente gioia a lungo andare soffrirebbe comunque invece combattendo all'inizio magari soffrirebbe nel senso psicologico nel dover cambiare le sue concezioni ma agendo poi per Krishna vedrà come poi nasca questa gioia nel adempere all'istruzione di Krishna del del supremo maestro e quindi anche noi tante volte abbiamo molta difficoltà ad andare contro le nostre concezioni così radicate però cosa sono? sono le nostre concezioni quello che dobbiamo capire è che sono nostre che io ho la mia tu è la tua e un'altra persona la sua e anche se noi siamo totalmente convinti anima e corpo che questa sia la concezione giusta ma come dice qua Shri la Prabhupada se non sono conformi alle scritture se non sono conformi alla volontà del Signore anche la nostra così più tenace convinzione non ha realmente motivo di essere quindi questa è una grande prova che dobbiamo affrontare grandissimo andare contro le nostre concezioni ma in realtà non è nemmeno contro le nostre concezioni e assecondare le concezioni assolute di Krishna dobbiamo capire questo principio capirlo col cuore con la coscienza provarlo sperimentarlo e vedremo che se noi adempiamo ai consigli di Krishna e del maestro spirituale troveremo il coraggio di affrontare qualsiasi cosa qualsiasi problema perché tanto i problemi arriveranno è impossibile che non arriveranno la nostra mente pensa che adesso stiamo bene e la proietta nel futuro e staremo sempre bene che penseremo forse che l'ultimo problema forse sarà la morte sì ma arriverà tra molti e molti anni in realtà può arrivare qualsiasi problema in un batter di secondo e se noi ci riaffidiamo alle istruzioni di Krishna e del maestro spirituale riusciremo ad affrontare qualsiasi problema e detto che per la misericordia del maestro spirituale anche uno storpio può essere in grado di attraversare una montagna e un un muto di comporre poesie e di parlare in modo eloquente e e quindi una persona che sa che solo grazie alla misericordia del maestro spirituale può riuscire ad affrontare tutte le prove anche le più difficili tam ahambande allora offre i rispettosi omaggi a questo maestro spirituale e quindi fa in modo di adempire alle istruzioni e alla volontà del maestro spirituale e quindi di Krishna e sicuro ma sicuro che arriverà una gioia sublime solo compiendo azioni attività nell'ambito del servizio devozionale sappiamo quanto è meraviglioso e sublime il servizio devozionale in tutte le sue attività un movimento religioso in cui si canta si danza per Krishna si mangia del cibo ottimo anche a piena sazietà non è che si cerca di essere persone pie religiose mangiare giusto il poco no si può anche in qualche modo eccedere mangiare fino a piena sazietà Shri La Prabhupada però diceva devi mangiare solo quello che puoi digerire ovviamente se no se non si è in grado di digerire si sta male però il concetto è che non c'è inganno non c'è duplicità non anche lo Srimad Bhagavatam rigetta questo dharma come un dharma ingannevole come un dharma duplice ma spiega che è il Param Dharma che è la religione suprema dove non esiste inganno non c'è praticamente si può sperimentare personalmente bisogna provare personalmente a andare un po' contro le nostre concezioni e a soddisfare di più il maestro spirituale praticamente dedicare la nostra vita la nostra esistenza alla soddisfazione del maestro e cercare di evitare di pensare sempre solo alla nostra soddisfazione alla nostra situazione anche se siamo devoti perché si sa questa è una tendenza naturale e in questo modo si può gustare realmente il nettere della coscienza di Krishna perché veramente è un nettere la coscienza di Krishna e questo servizio diventa spontaneo a un certo punto non è più costretto una volta era uno psichiatra con era con Shrila Prabhupada e con i suoi discepoli e lo accusava che forzava i suoi discepoli a compiere servizio devozionale per forza i devoti erano molto sereni e sorridevano e Shrila Prabhupada ha detto tu forzi i tuoi clienti ad andare da te a pagarli e ti pagano anche profumatamente e e tu li forzi ad andare da loro a fare delle sedute e tutto il resto questi ragazzi vengono e mi servono spontaneamente e sono estatici sono pienamente felici nel servirmi e io non li pago io sono un uomo povero vengo dall'India si sa che l'India è una regione molto povera del mondo sono venuto qua da solo tutti questi discepoli americani figli di genitori ricchi mi servono con così tanta abnegazione io non li pago nemmeno un dollaro e loro sono completamente felici ed estatici quindi chi ha ragione l'albero si giudica dai frutti e quindi questa è l'estasi che si può provare nel compiere servizio di devozione e tutto il resto tutte le speculazioni della mente tutti i desideri tutte le ambizioni al di fuori del servizio di devozionale provare per credere non possono mai soddisfare pienamente ed eternamente l'anima quindi questa è la è la meraviglia del servizio di devozione e quello che incoraggia e perché incoraggia Krishna a combattere questa battaglia e perché sa che se Arjuna combatterà e seguirà il suo ordine troverà realmente la piena soddisfazione dell'anima quindi questo è un insegnamento molto bello interessante che possiamo cercare di capire e comprendere grazie mille dell'attenzione Hare Krishna e se c'è una domanda un commento per caso abbiamo ancora qualche minuto se volete non so se c'è qualcosa da internet e in inglese ah ok ok Ok, ok, bella domanda Bhakti Ngaia chiede e dice che spesso Shriya Prabhupada incitava anche lui alla lotta Diceva che questa è una lotta contro Maya che hanno i devoti e quindi diceva a lei che ci può essere questo paragone tra i devoti e gli kshatriya Che anche i devoti devono combattere, anche Shriya Prabhupada diceva spesso di combattere così come gli kshatriya E quindi come si può capire questo concetto, questo punto E sì, allora diciamo che i devoti e non solo i devoti, tutti lottano costantemente contro Maya, contro l'illusione Che Maya è così potente che ha la potenza di avaranatmica e prascepatmica Che avvolge la coscienza dell'essere in origine spirituale e prascepatmica e la tira giù E quindi è una lotta quasi impari per un'anima condizionata in questo mondo Perché Maya è così grande, ha così tante armi Infatti Gaia mi chiedeva anche che i devoti hanno delle armi anche Per esempio è come un coccodrillo Un coccodrillo quando è in acqua e nel suo ambiente è in grado anche di uccidere un nippopotamo Grossissimo Ma quando il coccodrillo esce dall'acqua e non è più nella sua natura Allora non ha tutti quei denti, tutte quelle fauci, tutta quella potenza che aveva in acqua Non vale più niente, non ha più forza E quindi l'anima condizionata quando è in Maya Quindi è fuori dalla sua acqua, è fuori dalla sua dimensione spirituale È completamente succube della natura materiale E non ha armi, non ha praticamente armi Non ha nessuna chance di liberarsi Non ha nessuna chance di vincere questa battaglia È completamente impari E anche i devoti devono combattere contro Maya Non è che da quando un devoto applica il tirac sulla fronte e si veste da devoto Col doti, curta o con il sari A quel punto ha sconfitto Maya Maya è sempre presente Srila Prabhupada diceva sempre Maya is so strong Maya è così forte E Srila Prabhupada diceva che pregava tutti i giorni Krishna per riuscire a sconfiggere l'illusione A sconfiggere Maya Srila Prabhupada era un puro devoto Ma anche lui stesso doveva diceva che doveva pregare il Signore per affrontare tutte le difficoltà Perché Maya è potentissima, è incredibile Quando pensi di essere arrivato a un certo punto, di essere un'anima realizzata E se sei convinto di quello, succede qualcosa che ti fa ricredere E allora lì devi ricrederti e ritornare in uno stato di umiltà Perché un servitore del Signore deve essere umile Quella deve essere la prima caratteristica di un devoto E quindi le armi del devoto ci sono L'unica persona in questo mondo ad avere delle armi per sconfiggere Maya è il devoto E lo Srimad Bhagavatam dice Spiega quali sono le armi del devoto E le armi di un devoto sono appunto i devoti Sangha, Sangho, Upangastra, Parshadam Sono i devoti e qual è soprattutto l'arma più potente? Il Sankiltan, il canto dei santi nomi E il canto congregazionale dei santi nomi con i devoti Quindi il devoto che canta i santi nomi di Dio insieme ad altre persone Ha una forza incredibile E' una forza potentissima Sri Raya Prabhupada faceva spesso questo esempio Come un bastoncino Un piccolo bastoncino, un rametto Che facilmente con due dita si può spezzare Ma se questi bastoncini, se si aggregano tantissimi bastoncini tutti insieme in un fascio legati Allora se si provano a spezzare è praticamente impossibile E quindi la forza nel devoto sta nell'associazione con i devoti E nel canto dei santi nomi assieme ai devoti E questo crea una grandissima carica potenza spirituale E questa è l'arma principale che ha portato Sri Chetanya Mahaprabhu Per sconfiggere questa potenza illusoria così devastante E quindi Le persone intelligenti Allora certamente Adoreranno Sri Chetanya Mahaprabhu Perché Sri Chetanya Mahaprabhu è in grado di liberare tutte le anime cadute Mousama Patita Prabhu Napai Beara Come cantiamo anche Solo per la misericordia di Sri Chetanya Mahaprabhu È possibile liberare anche una persona La persona più caduta Patita Pavana E Patita Pavana vuol dire il liberatore delle anime cadute E quindi Sì Noi Devoti I devoti in generale Non si devono aspettare Di vivere una vita pacifica E serena Come Vivere per esempio Sull'Himalaya O vivere in un tempio A Vrindavana Come diceva oggi Sua grazia a Madusevita Prabhu Che un devoto dovrebbe Andare a vivere in un luogo santo Solo dopo Alla fine della propria vita Dopo aver svolto Anni e anni Di servizio devozionale Ininterrotto Incondizionato Con grande forza E con grande abnegazione Altrimenti Questa rinuncia Questa Diciamo Ricerca della pace Non arriverà veramente Perché Se una persona Non ha dei crediti Non ha Un devoto Non ha grandi crediti Nell'aver svolto Tanto servizio devozionale In modo sincero E potente Allora Se si ritira In un cosiddetto Luogo santo Pacifico I desideri materiali E la mente Sarà Sarà Più Potente Della Della pace Da lui Tanto Agognata Facendo questa scelta Quindi Dobbiamo Lottare Dobbiamo Veramente Lottare Dobbiamo Capire che Non è Non dobbiamo solo cercare una posizione Comoda Anche nella nostra Situazione Da devoti Ma Dobbiamo Cercare di Lottare Lottare Non vuol dire per forza Spremersi E Fare Austerità Tremende Cioè Andare Uscire A distribuire I libri 20 ore al giorno Per 7 giorni Alla settimana Lottare Vuol dire anche E soprattutto Lottare contro i propri Desideri Materiali E Vuol dire Andare Proprio Contro Il nostro Ego E anche se Uno ha una situazione Di famiglia Che non Shatria E fa un lavoro E Ha una Ha una situazione Anche Bella Tranquilla Nella propria Casa Nella propria Gria E Anche se Non ha magari Il tempo Di fare Grande Osterità Che Fisiche O psicologiche Di vario tipo Come Magari fanno Altri devoti Ma Può E deve Lottare Assolutamente Con La propria Mente Prima di tutto Con la propria Condizione Egoica Che cerca Di Fare allontanare In un modo Nell'altro Dall'associazione Dei devoti E da I Consigli E le istruzioni Del maestro Spirituale Quindi E Comunque Sia una Lotta E Sempre Una Lotta In un modo Nell'altro E Questa Lotta Se Viene Combattuta Costantemente Anno Dopo Anno Sempre Rimanendo Fedeli Alla Missione Di Sri La Prabhupada Questa Lotta Garantirà Senza Alcun Dubbio La Felicità Suprema La Pace Suprema Che abbiamo Tanto Agognato Perché Tanto Se Ne Vogliamo Cercare La Pace La Tranquillità Adesso Che Tanto Non è Possibile Perché Tanto Ne Arriverà Sempre Qualche Difficoltà Allora Se Cercheremo Adesso E Quindi Ci Allontaniamo Da Un Servizio Attivo Non Ci Porterà A Grande Giovamento Ma Se Invece Anche Facciamo Tanta Fatica Tante Osterità E Anche Fino Al Punto Di Lotteremo E Soffriremo Ma Quando Lasceremo Il corpo Questo Corpo Temporaneo Siamo Sicuri Ne Abbi Krama Nasciosti Pratte Avai Una Vidiate Svalpa Ma Pias Dharma Siat Traiate Bayato Traiate Mahato Bayat Siamo Sicuri Di Liberarci Da Qualsiasi Paura E Anche Un Piccolo Passo Per Non Dire Grandi Passi Che Abbiamo Fatto Nell'ambito Del Servizio Devozionale Ci Procurreranno Una Grande Gioia Soprattutto La Salvezza E La Pace Suprema Quindi Dobbiamo Comunque Lottare In un Modo Nell'altro E Lottare Per Krishna È La Migliore Lotta Che Possiamo Fare Spero Che Sia Una Risposta Che Posso Aiutare Ecco Già Grazie Mille Vi Ringrazio Molto Dell'attenzione Della Pazienza E Della Vostra Buona Coscienza E Adesso Faremo Un bel Kirtan Tutti Insieme